Musica Ben ritrovati da Alessio Grosso per il weekend. Primi caldi sull'Italia, in particolare al centro-sud, invece variabilità per il nord, specialmente domenica con degli acquazzoni in agguato. Poi vedremo dove, ma attenzione, per la prossima settimana si prepara un nuovo serio cambiamento. Ne parliamo diffusamente in questa nuova puntata di Meteorite Weekend. E dedichiamo l'apertura proprio all'analisi sinottica per cercare di capire cosa determinerà tempo buono durante la fase iniziale del fine settimana. Mi riferisco naturalmente all'analisi prevista per la giornata di sabato 10 maggio, dove vediamo una perturbazione che di gran carriera dalla Francia cerca di portarsi verso le Alpi, ma intanto ci concede un sabato di sole con delle velature che naturalmente poi arriveranno a disturbare parzialmente il soleggiamento, ma non impediranno comunque alla giornata di essere buona e anche abbastanza calda. Vediamo cosa succederà invece domenica. La perturbazione avanza e pur non risultando particolarmente intensa, per il nord ci saranno dei disturbi, che adesso andremo a vedere, sia in termini di nuvolosità che anche di qualche precipitazione. Infatti, rispetto alla nuvolosità, ecco, la giornata di domenica sarà piuttosto nuvolosa al nord, mentre ancora spazi di sereno li ritroveremo al centro e al sud. Potrà piovere, adesso vedremo dove, sulla Liguria e sul Trivento. Si tratterà di acquazzoni pomeridiani, anche a carattere di rovescio temporale. Vediamole pure le precipitazioni, sono quelle macchie in blu, macchie in blu più intense proprio tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia, isolate sul resto del nord, possibili però anche sulle coste Liguri, dove peraltro ci saranno nubi basse con dei piovaschi. Quindi, insomma, la domenica decisamente peggiore rispetto alla giornata di sabato. Comunque, andiamo avanti per cercare anche di capire invece cosa potrebbe succedere la prossima settimana. Ebbene, arriva una saccatura, che sarà proprio una seccatura dal nord Europa, ed ecco la sfuriata temporalesca. Sfuriata temporalesca con, vedete, questa ferita, questo verde, questi bassi geopotenziali, che stanno a significare che entra una situazione di curvatura ciclonica sul nostro paese, quindi con correnti che determinano la formazione di nubi e anche di temporali. L'alta pressione non ce la farà e anche nel prosieguo della settimana, qui siamo a martedì, ma vediamo pure il giovedì, anzi qui siamo proprio ormai sul finire della settimana, tra mercoledì e giovedì, guardate come entrano i vettori dell'aria fredda, quindi si torna indietro con la stagione perlomeno per una settimana. L'alta pressione sta di quinta in Atlantico, non riesce ad intervenire, e pertanto faremo i conti con questo vortice da mercoledì sino, pensate, al prossimo weekend. Quindi attenzione a non scoprirvi troppo perché poi la prossima settimana cambierà tutto. Molti si chiedono già come sarà il mese di giugno, vogliamo andare a scoprirlo insieme? Ebbene, il primo mese dell'estate, giugno, potrà darci finalmente un po' di soddisfazione? Sì, pare di sì, perché questa volta invece di piombarci addosso, come abbiamo visto poc'anzi rispetto alla prossima settimana, le basse pressioni andranno a localizzarsi sull'ovest del continente, e quindi sul bacino centrale del Mediterraneo e poi anche su gran parte del centro Europa, ci sarà una rimonta, probabilmente, una rimonta anticiclonica con temperature che complessivamente potrebbero risultare anche due gradi superiori alle medie del periodo. Quindi si prospetta un giugno, si prospetta perché poi bisogna andare ad avvalorare queste ipotesi con delle certezze, queste verranno più anti, ma si ritiene che possa essere un giugno piuttosto caldo e soleggiato. Infatti anche l'analisi delle anomalie pressorie mostra la bassa pressione a rimanere parcheggiata in Atlantico e coinvolgere magari la penisola iberica, ma non raggiungere il nostro paese che rimarrebbe dunque con l'alta pressione e il bel tempo. Belle prospettive, insomma, una buona occasione per sfruttare le nostre coste e per andare al mare in giugno, che magari costa anche un po' meno. Questa è la famosa spiaggia dell'isola di Budelli, la famosa spiaggia rosa. Bene, andiamo alle previsioni. Che weekend sarà? L'abbiamo detto prima, adesso andiamo proprio nel dettaglio. Vediamo la consuetta grafica per la giornata di sabato, come detto, si inizia con il sole, poi arrivano queste velature, quindi non fatevi spaventare della nuvolaglia che vedete, ma il sole resisterà lo stesso, lo vedremo come dietro ad un vetro smerigliato, e proseguirà il soleggiamento sino a sera. Non dovrebbero manifestarsi precipitazioni, qualora vi fossero e interesseranno prevalentemente le zone montuose. Passiamo alla giornata di domenica, dove ecco si conferma questa variabilità piuttosto spiccata, con la tendenza a qualche rovescio temporale tra Est e Lombardia, poi Veneto e soprattutto Friuli, Venezia, Giulia e settore alpino. Tempo migliore procedendo verso l'Italia centro-meridionale. Andiamo a vedere uno zoom dettagliato per il nord, vedete le nuvole sulla Liguria, il cielo parzialmente nuvoloso sull'angolo occidentale, compresa la Lombardia, non dovrebbe piovere né a Torino né a Milano, mentre più probabili le precipitazioni procedendo verso Verona, verso il Veneto, quindi Venezia, e poi Udine e Pordenone. Ecco lì nel pomeriggio, attenzione, perché i temporali potrebbero essere anche forti. Andiamo a vedere cosa succederà sotto il profilo termico, ciascuno guardi la località che più gli interessa, si nota un lieve calo al nord, ma valori che potrebbero toccare anche i 27 gradi, localmente anche i 28, anche se non è segnato, sulle isole maggiori e sulla Puglia. Quindi un pizzico d'estate in attesa del guasto che abbiamo annunciato per la prossima settimana. E andiamo appunto a vedere cosa accadrà la prossima settimana. Ebbene, si comincerà, lo dicevo, con il tempo buono al centro-sud, ma è soltanto un'illusione, perché già al nord nuovi rovesci dopo quelli di domenica sul Triveneto, rovesci che poi prenderanno piede soprattutto martedì, presentandosi più intensi tra Est-Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, per poi scivolare verso il centro-sud. Infatti se guardate attentamente la grafica, vedrete i temporali pian piano guadagnare spazio verso il centro-sud e liberare il settentrione, sicché già da mercoledì il nord respirerà un po', ma sempre con un regime di variabilità, mentre il centro-sud ritroverà ancora rovesci, temporali, vento forte, calo delle temperature, e anche questi fenomeni continueranno ad insistere sulle regioni meridionali, lo vediamo fin quasi a sabato, mentre il centro pian piano, specie il versante tirrenico, dovrebbe liberarsi, quindi concedendo spazio alle schiarite. Sono gli effetti dei vortici ciclonici, che quando ci raggiungono persistono. Le temperature infatti, dopo un inizio settimana stazionario, pum, subiranno un brusco calo tra martedì e mercoledì, perderemo anche 10 o 11 gradi rispetto ai valori che registreremo in questo weekend, quindi attenzione, copritevi di nuovo felpe e giubbotti, poi tra giovedì e venerdì non perderemo più gradi, ne guadagneremo un po' nel corso del prossimo settimana, ma stiamo parlando già del 17-18 maggio. Quindi attenzione, ecco davvero maggio, ricordiamolo che non è giugno, è ancora maggio, mese primaverile, dinamico, bizzarro, un po' come lo sono tutti i mesi primaverili, attenzione anche al mare, perché la prossima settimana, soprattutto al centro-sud, potrà risultare molto mosso o agitato, o anche molto agitato sui bacini più meridionali. Bene, con questo è tutto, comunque sia, intanto godetevi il weekend e soprattutto sabato sarà davvero una bella giornata. A presto e buon weekend, Alessio Grosso. Grazie a tutti.